Ciao, oggi parliamo di una serie di microfoni particolari, i microfoni a contatto, in particolare l'HKG C411. I microfoni a contatto sono dei microfoni particolari che non registrano le vibrazioni del suono che si propagano nell'aria, bensì attraverso materiali solidi. Pensiamo a quando appoggiamo magari l'orecchio a qualcosa, alla parete o al pavimento e facciamo appunto dei ticchettini, percuotiamo, sentiamo appunto delle vibrazioni oppure nei vecchi film quando appoggiavano l'orecchio alle rotaie per sentire in lontananza il treno che si avvicinava. Perché usarlo? Perché ci dischiude un mondo di nuovi suoni inaspettati, la possibilità di editarli nell'ambito del sound design, per ottenere suoni unici, particolari, effetti strani, transizioni per esempio. Alla scoperta di nuovi suoni. Il bello di un microfono a contatto è che i risultati sono spesso poco prevedibili e ciò porta a sperimentare. Suoni che nell'aria sembrano ricchi e interessanti si rivelano poi essere poco interessanti se ripresi con un microfono a contatto. Viceversa, suoni banali o poco interessanti possono regalarci grandi sorprese quando trasmessi all'interno dei materiali più disparati. Potete registrare di tutto, discorso strumenti musicali a parte, per i quali spesso sono impiegati. Quindi dagli elettrodomestici, alle molle del letto, dall'acqua che scorre rubinetto di casa, una latta percossa con una moneta, il rotolamento di biglie o palline su un materiale più o meno ruvido, su superfici più o meno ruvide, dalla sabbia al rumore delle serrature delle porte, al rumore dei tergi cristalli sull'unotto dell'auto. Veramente, l'unico limite è la fantasia. Uno dei vantaggi è che il microfono a contatto registra solo le vibrazioni che gli arrivano, per cui perdiamo ogni riferimento all'ambiente sonoro circostante. Se qualcuno urla, mentre noi magari registriamo il suono prodotto dal ticchettio delle nostre dita su una lattina, queste urla semplicemente non influiranno, non le sentiremo. Creeremo così dei suoni unici che, svincolati dall'ambiente sonoro circostante, possono costituire la base e una componente per la costruzione di scenari sonori complessi. Il suono che registriamo deriva dalle vibrazioni che un corpo o attuatore genera sollecitando un corpo risuonante. Mi pare chiaro, c'è un oggetto che tocca, percuote, striscia su un corpo che risuona e che trasmette le vibrazioni generate che andranno ad essere registrate dal nostro microfono. Il corpo che sollecita può essere qualsiasi cosa. Dalle nostre mani, un coltello, un sasso, una vite, un martello, un trapano, un pezzo di plastica, qualsiasi cosa. Chi ha doti di elettronica può anche costruirsi da solo e la tentazione magari può esserci perché comprando un piezo che costa pochi euro si può creare un microfono a contatto. Però diciamo che anche quelli di fascia più bassa non possono competere con le prestazioni di microfoni di fascia più alta, come per esempio il Barcus Berry 4000, un full spectrum pickup specificatamente indirizzato alla registrazione di pianoforte e arpa. Il costo si aggira sulle 400 euro. Uno dei più conosciuti in ambito sound design è l'home Geophone, dal costo di 160 euro, la cui unica pecca è che non è quasi mai disponibile, poiché ne costruiscono pochi esemplari e vanno subito a ruba. Se lo volete ottenere bisogna iscriversi alla loro newsletter che vi darà indicazioni su quando sarà nuovamente disponibile e accaparrarselo appena lo sarà. Originariamente questo microfono era stato progettato per rilevazioni sismiche, ma può essere usato con normale apparecchiatore per field recording. Una cosa importante in questo tipo di registrazione è la qualità del preamp della scheda di acquisizione. Questi microfoni vengono spesso portati in giro, per cui ci si affida per la registrazione ad un field recorder e questo deve avere i preamp più silenziosi possibili per garantire la massima qualità nella registrazione con questo tipo di microfoni. Uso il Tascam o lo Zoom, anche se quest'ultimo non è il massimo in termini di silenziosità, molto meglio magari un sound devices. Come si attacca il microfono? Io uso il BluTac che costa poco e funziona bene anche sulle superfici irregolari. Si può usare anche del comune nastro biadesivo, bisogna però fare attenzione al tipo e alla quantità di nastro che si attacca perché possono influire negativamente sulla sensibilità della cattura di queste vibrazioni. Quello che ho comprato è il diffuso HKG C411. Il prezzo si attesta sulle 160 euro. Viene spesso impiegato nella microfonazione di chitarre, violini, mandolini perché non altera il suono. Si attacca in genere vicino al ponte di questi strumenti. Ha bisogno di alimentazione Phantom da 9V a 52V per cui attenzione dovete avere una scheda che fornisce questa alimentazione Phantom. Il C411 è disponibile in due versioni. Il C411PP è dotato di un connettore XLR standard, mentre il C411L fornisce un connettore mini XLR a 3 pin che si adatta ai trasmettitori body pack di tutti i sistemi wireless microfonici a KG. Io ho preferito il primo con XLR classico. Per collegarlo bisogna attaccare il condenser vibration pick up alla superficie, collegare il cavo XLR all'ingresso bilanciato, attivare la Phantom e quindi registrare. La risposta in frequenza non è certo lineare, ma ha un boost come è normale sulle frequenze più basse, un evidente boost fino a 200 Hz, poi comincia a calare gradualmente per diventare più lineare dai 500 Hz in poi. La figura polare è un 8, questi sono di solito omnidirezionali. La banda di frequenza varia da 10 a 18.000 Hz, la sensitivity è 2 mV per Pascal, la massima SPL Sun Pressure Level si attesta per un THD dell'1% sui 96 dB. Uno svantaggio è che questi microfoni sono sensibili alle interferenze elettromagnetiche, spesso alte nei centri urbani, per cui bisogna avere delle accortezze e prestare attenzione durante la registrazione. Bene, ora vi faccio vedere alcuni semplici esempi di registrazione casalinga di qualche suono attraverso questo microfono. Sentiamo qual è il suono che possiamo catturare, la vibrazione che possiamo catturare e come possiamo editarla con un semplice sound design per ottenere degli effetti magari particolari. suono attraverso questo microfono attraverso questo microfono. suono attraverso questo microfono attraverso questo microfono. suono attraverso questo microfono attraverso questo microfono attraverso questo microfono. quindi, utilizzare prima puntata del luogo, puisqu'il radia심 la maestratizzazione Lancia, anche, all nokiala e con un eng endpoint смyou. Capital in gener 아빠$ davvero da un mente przy passare lo stesso Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.